Ricky Puig, calcia e spiazza Ramiro portando il Barcellona in finale. E il Barcellona, la prima finalista della Supercoppa di Spagna, battuto la Real Sociedad ai calci di rigore. Il protagonista Ter Stegen ha fatto benissimo nel finale di partita, prima salvando un gol e poi i rigori. Ha fatto diventare mati la Real Sociedad che infatti i giocatori del Barça lo stanno festeggiando. Veramente un grande portiere. Ha fatto una buona partita il Barça, acceso e spento.